ben tornati amici del gameplay su game over size e siamo pronti ad incontrare ignazius vediamo se ci ha fatto la barca hai completamente ribaltato la situazione necessito di una cosa pria di principiare il tuo vascello dite aiutaci a punire i predoni che assaltarono le nostre riserve di cibo vi ho già portato il cibo hanno rubato anche il manufatto più prezioso del reame la corona di farganzia ok ma certamente avrete delle altre no non macchiamo l'onore con si fatte stregonerie si re fate una grossa cazzata sono il re per definizione ciò che faccio è saggio dopo la vittoria costruirò il tuo mezzo acquatico alla puglia vabbè combattiamo insieme ai nostri eroi ignazius raduna i cavalieri ma c'è un problema lorenzi il lebroso è andato a cercare una polena e non è tornato lorenzi il lebroso? ah no basta segui su che esci roppo una volta basta e avanza non temere non è contagioso almeno credo vai al seafrand shopping town ci serve la polena vabbè iniziamo dai un'arma la kfu e trappola vaso di pandora ok vediamo che roba ragazzi ho una nuova arma uno spara bomba assurdo è fighissimo questo qui vedete fa tante esplosioni è una figata assurda e gli ho messo anche il potenziamento che potrebbe congelare i nemici la cosa ci piace assai no no la lebra si diffonde già dove la peglia la lebra? lorenzi sei lì? ah questa? lorenzi lorenzi eccoci lorenzi eccoci lorenzi Lorenz il lebroso. Non sono lebroso, Ignazios mi chiama così perché ho attaccato le piattole alla sorella. Beh, ti ha mandato in una missione bella incasinata. Dov'è la polena? L'hanno presa loro. Loro chi? Sono dappertutto. A confronto la cambozza sembra Boise. Maga! Ah, che cavolo! Che fatti! Ma io ho appena staccato la terza! Oh, ma che cavolo è? Muori! Forse è un'arma più veloce per questo. Il nostro amico. Sparapalle. Ok, è esploso. Bene. Ce ne sono altri? Oh, prendi fuoco e muori. Ci piace, ci piace. Tu brucerai. Brucerai anche tu. Livello 4 l'arma! Attenzione! Inizio a diventare molto, molto sgrava. Via, via, fuggi. Fuggi. Come si sporge tutto? Che arma bellissima. Oh, ma cos'è? Oh, ma cos'è? Ma per esempio non cos'è? Oh, ma... Non so se più aggrapparmi. No, ma non so se più aggrapparmi. Oh, ma non ok. Oh, ma non so se più aggrappi. oh dove sei? nooo sono caduto, vabbè mi sono rialzato dove sei? testa di tutto un atto ahia quanto sarta pure lui oh ma dove sta? eccoci qua, dove è Nalfo? è morto? oh si è morto nooo che spettacolo uno due, uno due, sap sap posso caricare? udite il mio ruggito no che figata ma non mi fanno niente ahiaiaiaiaiai mi stanno scendendo oh, mi stanno ammazzando a le armi per fagartia il sovrano di fargarzia ma per fargarzia ho un errore mio bisogna mettere questo e fare a fare bordello nelle fine nemiche lo giochi lo ridurremo a brandelli con il fuoco di mille cannoni chi è la principessa del di fargazia esplodete ma quanto sangue spiriti dei nani aiutateci spiriti dei nani no un'arma che si fa le nani la voglio sono morti è finito come c'è ok la regnazio oh madonna i missili magici i missili magici? ah come c'è ah ok 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 ARKOR ARKOR Oh, e no. Vai, vai, non siamo così. Bene. Ah, ah, scusate, mi devo metter avanti, va. Ho capito. Non ha tutti i torsi, però, eh. Il re risorge come l'araba felice. Una salva, abbattiamoli! No, ho sbagliato. Beh, non ha sparato più. Oh, sfonna! Eh, ma sa che ci hanno ammazzato? Andiamo avanti! Con la forza di salsore! Fate fuori questa banda di media! La meta è vicina! Oh! Oh! E' bello! Oh! Si stanno ammazzando la riede! Aia, che cacchio era! Oh, la riede sta per essere distrutto! Non lo spara più! Che cazzo! Oh! Sì! Ancora più! Ancora! Caballiere! Eh, ma siamo scoppati poi un altro po'. Eh, abbannisce tutto! E vai! Porta bandiera! Avanti armi in pugno! Avanti e versate il sangue dei faravutti! Uh! Bene! Ahahahahahahahah! C'è un chierico sul campo? Qualcuno ha una pozione curativa? C'è un chierico sul campo? Ahimè! Troppo tardi! Il mio sangue! Il mio sangue! Il mio sangue! La morte di Regnassius! Il sangue! Come l'ha fatto? A me una fottuta arma! Cambiato il re! Ah, non ho capito! Tutti con gli AKF! Ahahahah! Aia! Mio sire! Un'orda di vesti si avvicina! Già! Ora non ci voleva proprio! Cavaliere! Noi respingiamo l'orda! Destruggi i fuochi d'artifizio! Incendia il castello! Oh che bello! Ma che spettacolo ragazzi! Mamma mia! Aia! Dovrei incontrare i miei mostri là! Eh! Non li vedo più! Mi voglio darti i visi! Eccoli qua! No! Lì non ci stanno! Ora ti ammazziamo! Oh! Non riesco più a salire sopra! E' una morte grave! Eh! Grazie! Ma va! Ma l'hai capito? Manca l'ultima ragazzi! No! Sono caduto! Eccole qua! Poi! Oh! Scusate! Ma chi è questo? Va bene nerd! Ora basta! Io non andosserei più quella corona eh! Ti piacciono le fiamme eh! E allora adesso sto poco al culo! Oh oh oh! Dobbiamo usare questi forse! Come devo fare però? Eh! Ma se lo fate capire come ammazzarlo! Io lo ammazzo! Poi lo volentieri eh! Sono maxi boss! Sono maxi boss! Ah! Adesso inseguiamolo! Scusate la rossa! Scusate la rossa! Dov'è un bel arma! Dov'è un bel arma! Scusate la rossa! Oh no! Oh no! Oh no! Dov'è? 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 Ma che spettacolo Ma che spettacolo Ma dove sta? Perché non ci becchiamo? Eccolo! Mio dio che capocciata E tutto finì con un'esplosione Aia O siamo postiti uguali che te Ecco la corona di bottoni La vittoria oggi è in mano nostra Ma non sarebbe stata possibile Senza il nostro campione Grazie, grazie È giunto il tempo Che il nostro cavaliere ci saluti Ma se avrete bisogno di me Mandate un corvo E io verrò Non temetemi ai sudditi Ora torniamo a Fargarzia E li diamo i dromele Oh, i dromele E la mia barca? Torna di mane al castello E principierò la costruzione Bene Torna domani, torna domani, torna domani Che cavolo Suocco le di faggartia Ragazzi Noi ci vediamo al prossimo episodio Sperando che questa volta la nave sia finita Alla prossima